Il percorso di coaching che ho fatto è stato l'investimento più bello che abbia mai fatto in vita mia per me stesso perché mi ha permesso di fare tre cose la prima che ho capito chi sono e dove sono nella mia vita e il secondo che ho deciso una destinazione ben precisa ho capito dove voglio andare e la terza ho avuto gli strumenti per saper prendere il timone e quindi anche tu prendi il timone della tua vita